di una nuova rivoluzione, chiamata metaverse. Il metaverso si sviluppa nel digitale. La sua materia è composta dai dati e dalle informazioni. La sua struttura è spazio temporale. La stessa dell'universo fisico. Sarà una piattaforma per tutto. Lavoro, sport, intrattenimento, istruzione, formazione e comunicazione. Questa piattaforma offre una modalità nuova di interazione. Una simulazione tridimensionale che consente agli utenti di immergersi veramente. La comunicazione politica sta evolvendo sempre più velocemente. Questo è sotto gli occhi di tutti. I politici cercano nuovi strumenti per raggiungere in modo efficace un elettorato sempre più ideologicamente liquido e cangiante. Il metaverso porterà una nuova forma di interazione tra politici ed elettori. Un messaggio che arriva a tutti gli elettori, portando una ventata di novità, favorendo il dialogo, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie di comunicazione, contraddistinto la storia politica di Silvio Berlusconi.